Nessuno può dimenticare la Shoah, lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista. A Campagnola Emilia, per ricordare la giornata della memoria, i ragazzi della scuola primaria hanno ascoltato con attenzione la storia di Ilse Weber, una giovane scrittrice ebrea raccontata dall'attrice Marina Coli. Ilse Weber è stata una donna, giovane donna, che prima delle leggi razziali, in cecoslovacchia, lei era una scrittrice, scriveva per i bambini, scriveva anche abbastanza conosciuta, aveva la capacità di scrivere fiabe, poesie, partecipava a delle trasmissioni radiofoniche anche. Poi con le leggi razziali, essendo ebrea, ha iniziato a ritrovarsi costretta a rinunciare al suo lavoro, per finire poi a Theresienstadt, che è il campo di concentramento, definito il campo di concentramento dei bambini, perché vi sono transitati molti bimbi in questo campo di concentramento. Ilse si dedicò con amore ai bambini come infermiera e con una chitarra cercò di allietare le loro giornate con fiabe e canzoni. Mi è piaciuto molto studiare questo personaggio, questa figura femminile, con una forza e una speranza incorruttibile, nonostante le difficoltà, perché è riuscita a portare luce in un luogo di oscurità, un luogo di grande sofferenza, a dei bambini che poco dopo sarebbero finiti in una camera a gas ad Auschwitz. Infatti lei morì insieme ai suoi bimbi ad Auschwitz nel 1944. Io di questa storia sapevo veramente poco e ho scoperto delle nuove cose che non mi potevo neanche immaginare, perché io sapevo soltanto che venivano trattati male, che sono stati portati nei campi di concentramento e non sapevo che fossero accadute tutte queste storie e sono felice di essere stata qui perché ho scoperto questa nuova cosa, quindi sono un po' sorpreso. La discriminazione ovviamente non è bella, perché tutti siamo diversi e per noi dobbiamo essere accettati per quello che siamo, anche se siamo di pelle diversa, di cultura diversa, di religione o di qualsiasi altra cosa diversa, perciò dobbiamo rispettarci per quello che siamo. Tanta emozione, tanta emozione perché c'è stato un racconto che ha permesso di soffermarsi sull'attenzione che dobbiamo dare agli altri. Forse se riscopriamo il piacere di dare le attenzioni diventa tutto più bello e la nostra sarà una bella scuola. Lo spettacolo è stato organizzato alla scuola primaria di Campagnola dal sindacato pensionati SPICGL che da sempre è impegnato nella trasmissione della memoria e della cultura alle giovani generazioni. Il messaggio che noi vogliamo dare è questo, guardate che quello che è successo allora potrebbe succedere ancora, anzi sta succedendo in tante parti del mondo, sta succedendo in Libia, è successo in Yugoslavia 30 anni fa, quindi non sentiamoci sicuri e tranquilli che quello che è successo è rimasto ed è un fatto di storia, è un fatto di storia che ci deve aiutare a capire che se le giovani generazioni insieme alle generazioni più anziane non staranno molto molto attenti, quello che è successo si potrebbe ripetere come ci ha ammonito Levi. Grazie a tutti.